la riapertura ci sarà e sarà una corsa a tappe che durerà fino al primo di giugno questo è il contenuto del nuovo dpcm illustrato ieri dal presidente del consiglio giuseppe conte una corsa a tappe che partirà proprio oggi 27 aprile con un warm up quando le aziende strategiche che hanno il rischio di perdere quote di mercato all'export potranno chiedere al prefetto una deroga per ripartire già subito inoltre si sbloccano i cantieri per il dissesto idrogeologico e quelli legati all'edilizia scolastica e carceraria la data chiave resta comunque quel 4 maggio più volte ripetuto quando partiranno sia l'industria sia le costruzioni a patto che rispettino tutti i dettami del nuovo protocollo di sicurezza approvato lo scorso 24 aprile con i sindacati finalmente c'è anche nell'elenco dei codici a tecco il numero 25 quello che legato alla siderurgia che quindi permette alle nostre aziende di poter ripartire in tranquillità ci sarà anche il 4 di maggio il nulla osta arriva a spostarsi all'interno della stessa regione ma sempre per comprovate esigenze che però in questo caso contemplano anche la visita apparenti il 18 maggio sarà invece la volta del commercio a dettaglio mentre bar ristoranti centri estetici dovranno aspettare fino al primo di giugno come abbiamo ricordato nelle scorse settimane gran parte delle aziende della nostra filiera sono già ripartite anche se a ranghi ridotti grazie alle deroghe prefettizie per cui dovrebbero farsi trovare abbastanza pronte a questo sblocco anche della domanda previsto per il 4 maggio perché partirà anche l'automotive se la tabella di marcia annunciata sarà rispettata molto dipenderà ancora una volta dai dati epidemiologici dal momento che lo stesso premier ha ricordato che tutto è vincolato all'andamento del contagio e non è escludere che se i cittadini abuseranno di queste nuove libertà la ripartenza potrebbe avere una durata breve grazie a tutti grazie a tutti